benvenuti alla presentazione del nostro nuovo video zoom oggi scopriremo il nuovo espositore un'attrezzatura dal design originale che si adatterà perfettamente al vostro negozio scopriamo insieme le caratteristiche di questo prodotto innanzitutto la sua struttura montato su un supporto da terra con un'altezza e larghezza che misurano rispettivamente 1,77 metri e 70 centimetri il piede d'appoggio sviluppato per una stabilità ottimale è amovibile permettendo di utilizzare l'espositore di 70 centimetri anche in versione da banco la struttura principale dell'espositore è dotata di uno spazio per una radiocorta uno spazio per una telecamera ed uno spazio per lo schermo gli altoparlanti e l'antenna sono inclusi tuttavia i prodotti audio e video non sono in dotazione con l'espositore in questo modo è possibile selezionare gli articoli da presentare infine il logo è retroilluminato il pannello pvc personalizzabile